Come va? Tutto bene? Come state? Come va? Come ve la passate? Come va? Come va? Come va? Spero ve la stiate passando bene Spero che vada tutto posto, spero che abbiate passato una bellissima giornata Spero che la vostra famiglia stia bene, spero che siete felici che stare iniziando la scuola Così porca troia la smettete di cazzeggiare tutto il giorno e vi costruite un futuro, porca puttana E perché a una certa bisogna dirle le cose come stanno, porca miseria Cioè avete quattro anni e vi lamentate pure, dai andate a fare le scuole medie Comunque signori, come state? Cosa avete fatto? Come avete passato la giornata? Spero sia andata tutto bene Stasera abbiamo una Forms Night Dicevo, stasera abbiamo una Forms Night molto ficca qui su Tweak Per chi non sapesse cos'è una Forms Night c'è un Forms Che potete trovare o pinnato in chat, quindi basta che guardate sopra Dove c'è adesso? Sta arrivando un live train La trovate il link Se invece non vi seccate ad andare a live e volete usare C'è anche il punto esclamativo Form Se volete partecipare Insomma avete molte opzioni per partecipare a questa live Molto easy Per tutti quelli che stanno chiedendo Poldo non funziona Facciamo sempre Oggi non do il pugno al tavolo Il Form apre quando lo apro io Ok? Quindi mi dice che non va Il Form apre quando lo apro io Però è là Ti dice semplicemente Hey non accetta risposte Perché? Perché chi l'ha creato deve aprirlo Per questo non accetta risposte Ok perfetto Ora che abbiamo risolto ogni dubbio Vi presentiamo il Form di stasera Vi presentiamo il Form di stasera Abbiamo, ho scelto un Form un po' particolare oggi Perché è stato un po' un azzardo L'ho voluto fare perché L'ho voluto fare perché ho detto Dai vabbè stiamo facendo la Forms Night da tanto tempo Quindi è giusto provare a fare una cosa simile Non l'avrei mai fatto tipo un mese fa Però ecco qua il Form di oggi Allora il Form di oggi Nonostante molti non abbiano capito Cioè non abbiano problemi di comprensione del testo Cioè è molto scritto Allora è una skin Dovete mandare due foto Come vedete qua ci sono Due Due, due parti Ovvero skin videogioco e foto hirl Molto semplicemente La prima foto skin videogioco Dovete scegliere la skin Che utilizzate in un videogioco Può essere Minecraft Può essere Roblox Può essere pure Gacha Life Non me ne fotte un cazzo Qualsiasi videogioco Dove avete fatto una skin Proprio customizzata Una skin vostra Una skin che è solo vostra Che ce l'avete voi Capito? Se mi mandate il vostro personaggio di Fortnite Ed è una skin comprata allo shop Cioè Deve essere una cosa customizzata Capito? La skin di Minecraft è perfetta Perché te la fai tu Pixel per pixel Puoi mettere quello che cazzo vuoi Roblox Dai almeno un po' è customizzabile Comunque quei giochi In cui hai la possibilità Di customizzarsi Un Di customizzarsi un personaggio Molto easy E Mentre dopo dovete mandare una foto vostra E ovviamente se mi mandate la foto Delle ginocchia Io non capisco The Sims vale Sì valgono tutti i giochi Dove potete customizzare Dopodiché una foto vostra E Però non una foto Tipo dei piedi Devo vedere il volto Perché devo capire la differenza Tra il vostro personaggio In un videogioco E Voi Irle Come vedete qua Io sconsiglio la partecipazione Al form A chi ha meno di 16 anni Mi raccomando Questa è una cosa che io Sconsiglio sempre Perché è un Un Una cosa per cui E Sconsigliamo la partecipazione A chi ha meno di 16 anni E Per chi invece vuole partecipare Vi lascio un po' Per appunto Partecipare Al form Io accendo le risposte Quindi da questo momento in poi Potete Inviare la risposta Mentre Vi lascio qua la schermata E potete iniziare Vi avviso che Non trollare Perché c'è la pena Ban E Purtroppo Anche un normalissimo Recroll Stasera va bannato Perché Non è la serata giusta Per Per trollare Le forums night Ci sono tutte le serate Che volete per trollare Oggi è quella sbagliata Fidatevi Oggi è veramente Quella sbagliata Ciao Lux Grazie del settimo mese Ciao Colmi Ash Grazie del tier 1 No del tier 1 Per il terzo mese Ciao Bentornato Bentornata Grazie del terzo mese Ciao Alice Trentottesimo mese Non sono cinese Trentotto mesi Porca troia Ciao BCDNNNG4 Grazie del Prime Ciao Grazie anche a 888 Per il terzo mese E basta Dov'è ringraziato tutti Grazie di cuore Quanto sta Compro una pizza stedia Sta A 661 Su 670 Settanta La potenza La potenza Ce la stiamo quasi facendo Stiamo per raggiungere Il bellissimo Sedia a due gambe Allora Prima di iniziare Come sempre Intanto vi do Tutto il tempo Del mondo Per Per fare questa cosa Per 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 partecipare Al form Potete partecipare A qualsiasi Edà volete Io lo sconsiglio A chi ha meno Di 16 anni Poi la decisione Sta vostra Il cervello Lo avete voi Che stavo dicendo Ah oggi Non so se avete visto Su Instagram Vi ho avvisato Che purtroppo Per settembre Non uscirà Un pelo in bocca A settembre Non uscirà Non usciranno video Con programmazione regolare Dovrete aspettare Il 18 settembre E sarà l'unico video Di settembre E probabilmente Ve lo spoilererò La settimana prossima O domani Non lo so Va bene E Bisogna far vedere Il volto No no Il volto Io L'ho specificato Il volto E Che stavo dicendo Che per settembre Purtroppo uscirà Solo un video A il 18 settembre Questo non intacca Nelle live Nei video Sui video Su Poldo Gaming Che Quelli ci sono sempre Continuano Semplicemente Per i video Sul canale principale Che sono strutturati Complessi Eccetera eccetera A settembre Ne uscirà solo uno Anche perché Sto lavorando A due video Uno Questo qua Che esce a settembre Tranquillo Tra virgolette E poi Letteralmente Al video Più importante Del mio canale E letteralmente Sto lavorando adesso A quello che io considero Il video più importante Che abbia mai Che abbia mai realizzato Secondo me Sarà un video Che devo impegnarmi A non far durare Un'ora Veramente Devo impegnarmi Che duri 25 30 minuti Se dura 20 minuti Sarebbe tipo Perfetto Capito Un documentario Di 20 minuti È pazzesco E sarà Complesso Sarà Veramente 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 Complesso A quando i video Col progetto Painkiller Non Io Non Cioè Non ne usciranno Sul mio canale Perché io Non ho partecipato Però ho partecipato Ai loro video Quindi usciranno Sul loro canale Non so quando Quello di Danny Di Zeb Di Daniele Farò di 48 minuti No 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 Anche se durassero Non lo vedrei tutto Eh lo so Però ho capito Fare un video Di un'ora È Problematico Problematico Ultima volta Che ve lo ricordo Trovate il form Pinnato In alto E va bene Disegni No Non Disegni Cioè Quello che c'è scritto Il form Lo trovate Pinnato In chat E La descrizione Altrimenti Scrivete punto Escamativo form In chat E vi arriva Qua trovate tutta La spiegazione Su quello Che dovete mandare Scritto qua Completo Consiglio di Leggerlo Perché ti fai crescere Il pizzetto Che cazzo Di domanda È Giuro che oggi Ho risposto a tutte Le domande Con molto amore Però che cazzo Di domandare Perché ti fa crescere Il pizzetto Cioè Come ti dovrei rispondere Bro Cioè Porca puttana Allora Fatemi spegnere qua Fatemi mettere Un po' di musica Chille Proprio sulle trombette Parara Valgono anche Quelle di Fortnite E io quelle di Fortnite No perché Ho scritto Customizzate In cui puoi Customizzarla tu E quelle di Fortnite Sono Ehi vai nello shop Spendi 12.000 euro E compra una skin Quindi Quello non lo so Forse è l'unico Che eviterei Però come tipo Aveva detto The Sims Roblox Minecraft Tutti questi In cui puoi customizzare La tua skin E' perfetto Papara Papapapa 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 Ok No Magari questa no Ok Fatemi fare questa Musichina Di sottofondo Messa Allora Io ho Un po' paura Che questa Forms Night Duri poco E ne stavo Parlando anche Prima di iniziarla Perché io sono Molto consapevole Del fatto che ci siano Molte persone di 10 anni nella mia community quindi non è una cosa molto molto fattibile, poi non ho una quantità di spettatori allucinante da poterlo fare quindi comunque l'ho voluto provare stasera vediamo come va, nel caso in cui la live finisca subito, ci vediamo domani no? Ciao Decolmimeri, grazie del settimo mese, grazie di cuore per l'Aresab, allora guys direi che possiamo iniziare, direi che possiamo andare sulle 20.46 avete avuto un po' di tempo e ne avete ancora, si parte con questa lives, secondo me è una bella live, no no sì sì, ne sono ne sono molte, madonna io ammazzo tutte le mosche io sono il killer delle mosche dicevo, no no lo so che è una bella live, a me garba da morire, è che la partecipazione io parlo della partecipazione diretta allora, questo è il gioco di Roblox ok, vediamo qual è la tua skin di Roblox ok io non so cosa aspettarmi nella tua foto perché da questo personaggio posso denotare che tu sia un fanboy anche abbastanza muscoloso e io l'unico commento che mi viene di fare è Gesù Cristo e Dio Signore, ma pure il ciuffo davanti gli occhi e la la le bende intorno questo è un tipico personaggio per cui tipo gli utenti su tiktok utilizzano l'emoji teschio basta utilizzare l'emoji teschio basta, veramente basta, per favore sono fastidiosissime da vedere ok hai pure la cuffietta e il choker abbiamo una serie di caratteristiche per cui il contenuto della foto di chi sei tu potrebbe essere o un uomo incredibilmente enorme di 4 metri o una perfetta rappresentazione di questo qua scopriamolo subito 3, 2, 1 o ok in realtà no me lo aspettavo semi-medio tra l'altro perché hai il manifesto sul lampadario ma con tutti i posti dove potevi metterlo sul lampadario va bene e che dire quello che mi aspettavo no io non me l'aspettavo onestamente pensavo fosse troll no no i troll non sono accettati amici sono schierati fuori dalla community ciao shape grazie del sesto mese ciao a homo in habilis grazie del decimo ciao belli benvenuti no dai onestamente io mi aspettavo un bambino di 11 anni no onestamente ci sta meno male poteva andare molto peggio sono io questo ciao onestamente se ti incontrassi in game ti sparerei forse hill no però in game ti sparerei letteralmente ti sparerei sembri tu ok dovete smetterla con questa cosa un sacco di persone mi scrivono nei dm di instagram oh poldo c'è questo amico che è identico a me mi manda una foto ed è magari boh una persona a caso che ha i capelli lunghi che non ha nulla che ha a che fare con la mia faccia non ha gli occhi azzurri non ha i capelli biondi non ha la barba il coso come ce l'ho io non ha la mia impostazione fisica per il solo fatto di avere i capelli lunghi sì ma questo sei tu ma che cazzo vuol dire ma che cazzo quindi se non ho i capelli lunghi quella persona non è automaticamente me oh gesù cristo non funzionano così eh allora minecraft che non gioco da due anni ok allora questo è il tuo personaggio è una bandiera quella nelle caviglie giusto è una bandiera quello nei capelli lunghi ciao me stesso grazie al trentunesimo mese bello ben tornato mica trentuno mesi ok è la tecnicamente la bandiera pan sessuale persona calva con barba tearless raptor no non credo che sia tearless raptor questa persona però sì dovrebbe essere è gender fluid ok non è pan sessuale no questa non è transessuale è gender fluid ok gender fluid scusa devo impararmi devo impararmi le bandiere ok ci sta let's go cosa posso aspettarmi da questa persona non ne ho la più pallida idea ok boh in realtà ci sta è come dire non mi viene il termine coerente con la skin di minecraft è il giusto è il giusto perché effettivamente dietro questa skin di minecraft ti aspetti un ragazzo tipo un bambino di 12 anni pelato non ho mai visto un bambino di 12 anni pelato al massimo con i capelli molto corti però non lo so sto dicendo così a caso sì però non ha i capelli azzurri quindi automaticamente lo considero una skin che ha rovinato tutto andiamo avanti tier a 12 anni è vero era tier quello pelato dietro a 12 anni che gioco è roboc x oh gesù ma perché roblox perché la sola vista di roblox mi crea questo effetto mi fa venire quel sai quella allora ci sta no ci sta lil nas x perché hai commentato lil nas x lil nas x non è letteralmente un tipo un cantante nero cosa c'entra con questo va bene ok scopriamo 3 2 1 bro victor nesty immagino che tu esci di casa e dici cazzo sono simpatico niente bro mi spero che la tua giornata proceda molto male e caschi da un balcone minecraft ok skin minecraft come è possibile è 3d è tipo una mods a parte che 9 su 10 chill vibes questa questa skin sarà il maglioncino con leone poi la bedrock ah in bedrock è possibile minecraft bedrock ma è una skin base di minecraft bedrock o è un come dire una skin customizzata è acquistabile no è custom ah ok è una skin custom è una skin custom scusate non lo sapevo purtroppo non giocando bedrock so che ci sono pure le skin che puoi comprare quindi ci sta chill e come dice palmoci farebbe molto ridere se adesso la persona dietro avesse questi esatti capelli e quindi vai 3 2 1 tipo quello di ok ok ah il cappello di pepe bro ah il cappello di pepe io ho un cappello di pepe io avevo un cappello di pepe ormai l'ho perso si era rovinato con la candeggina dovevo lavarlo mamma mia pace all'anima del mio povero cappello di pepe capelli blu e gialli volevo i capelli così volevo volevo davvero i capelli così volevo i capelli così che carino quello squishmallow cos'è uno squishmallow è perché ha un nome è questo questo è uno squishmallow quello stronzo di burger cos'è sto meme madonna lo sto vedendo ovunque next minecraft ok skin minecraft di sara mo sara è tipo tearless raptor no invece è identico circa vabbè però ha i capelli rossi qua abbiamo veramente una persona che ha rispettato skin minecraft skin minecraft persona earl mancano gli occhiali però effettivamente come si mettono gli occhiali su è tearless raptor va bene solo perché avete visto tearless raptor adesso ogni persona che vi vedete davanti è tearless raptor no non è decisamente ah sei tu purple berry ciao no non è decisamente tearless raptor assolutamente però coerente 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 voto 10 roblox sono tanto diversa earl ok o gesù cristo io non so come dovrei reagire a questa cosa io non so come dovrei reagire a questa cosa quindi non dirò nulla e andiamo avanti ok ci sta poteva essere effettivamente un tipo un come si chiama un aiuta danny de vito ecco non mi veniva la parola danny de vito ecco io di solito con una skin del genere su roblox mi immagino danny de vito non lo so mi immagino un danny de vito spiaggiato nel e tearless raptor dove hai visto tearless raptor guardando questa foto dove hai visto tearless raptor guardando questa foto basta con questo è uguale a tearless ma dove lo non c'entra nulla con tearless raptor e questo è uno sfotto nei confronti dei partecipanti e di tearless raptor in primis quindi per favore rispettiamo i rispettabili se non vuoi perdere tempo non aprire la mia pera che ha un account roblox eh cosa cioè quindi tu hai una pera che ha un account roblox ma come può giocare a roblox una pera cioè non è possibile voglio immaginare cioè ci giochi tu comunque quindi è comunque il tuo account il gioco per telefono di south park allora quando ho detto qualsiasi gioco avevo cioè avete fatto bene a prendere qualsiasi gioco però non mi aspettavo di trovare il gioco per telefono di south park allora tu sei così quindi ti immagino Irl come come un montanaro beh oddio è molto simile ti manca il cappello da da McCree no che mo' non si chiama più McCree scusatemi si chiama Cassidy Cassidy perché ci sono stati dei problemi di molestia mi pare alla brisard qualcosa ma va bene se è una foto Irl fanculo allora tra l'altro perché c'è scritto caconi qui in basso non mi farò domande Tearless Raptor va bene avete perso l'occasione per dire sei tu perché è una persona a casa con i capelli lunghi però va bene ciao Bria grazie del trentaseiesimo mese madonna oggi giornata di resab allora abbiamo la skin di minecraft ok se adesso non mi trovo davanti una ragazza emo anni 2000 che ha queste sembianze se non mi trovo una ragazza emo che ha queste sembianze dopo questa skin vuol dire che il governo ha fallito scopriamo se il governo ha fallito il governo ha fallito vabbè oh ci sta alla fine forse è una di quelle skin minecraft ba tearless non hai visto nemmeno la faccia qua non è non è va bene dicevo è una di quelle skin minecraft molto base cioè non prendere come offesa attenzione però è un tipo di quel un tipo di skin che becco che becco sempre online però ci sta alla fine è molto basic quindi si rispecchia bene chill non è fatta apposta si si infatti 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 è molto chill 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 roblox non ci gioco da un anno e per fortuna vorrei dire è deforme ti rendi conto che è deforme sembrano le gambe di un lego messe su una è veramente deforme oh mio dio perché è così strano perché su roblox sono tutti dark e infatti questa è una bella domanda tutti quelli che giocano a roblox fanno le skin dark non ho beccato ancora tipo il simpatico di turno che ha che ne so un pisello come avatar su roblox ciao Brad Pitt grazie del prime oh oh fucking official Brad Pitt oh my god thank you thank you so much Brad Pitt for subscribing to my twitch channel i really like your movies like fight club or all the other movies with you Brad Pitt and thank you so much for your sub thank you thank you polterino grazie dell'ottavo mese ciao vai nico cato di segura quando facevi mac io ti odio allora skin roblox ci sta ci sta dark nell'anima dark anche su su roblox perché essere dark è una 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 legge è una legge no in realtà a posto non hai capelli ricci qua però non hai capelli ricci sto tentando di capire cosa cazzo sono queste cose però credo siano delle cuffie perché gli escono dalla macchina non commenterò più questo avatar di roblox andiamo avanti non farò più roblox shaming minecraft le ho messe insieme let's go ah ok le hai messe direttamente insieme è un pigiama di hello kitty ti farei andare sul fronte ucraino ovviamente sei una battuta penso sia molto comprensibile fosse una battuta le hai messe insieme direttamente quindi ok si è la stessa immagine anche questa molto molto normale ci sta io sto aspettando il danny devito di turno sto aspettando il danny devito di turno che gioco è roblox hai la maglietta di jurassic park che ha un uccellino blu poggiato sulla spalla voglio vedere roblox roblox my man se ti piacciono i dinosauri keep doing your shit se ti piacciono i dinosauri keep doing your shit tearless raptor vabbè chiaramente è una non tearless raptor se ti piacciono i dinosauri keep doing your shit ovviamente una cosa che non ho specificato ragazzi in chat è che per i partecipanti alla live di oggi non saranno tollerate né prese per il culo né altro di offensivo in chat perché vi muto un botto quindi siate rispettosi per chi è stato coraggioso e sta partecipando a questa live mi raccomando ok next minecraft yo damn questa è veramente una skin bella questa è veramente una skin bella questa è veramente una bella skin è un pezzo di lana con le croc voglio sperare che siano crocs è palesemente janko vai vediamo se è janko non è janko però questa è la tipica faccia di una persona che ha questa skin non lo so anche lui è tearless raptor grimace solo perché è viola crystal is purple no allora questa qua è molto bella sembra quella di totta boh sai che non ho mai visto la skin di minecraft di totta vabbè però ci sta ah è il purple guy di five nights of fridays un gioco di south park per telefono in vacanza ho solo questo un altro ma wow ok quindi questo è il tuo personaggio con la corona dall'oro e il cellulare in mano scopriamolo io adoro quando ci si ci si fa l'avatar che è uguale a te l'avatar uguale ci assomiglia molto questo ci assomiglia veramente 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 molto apprezzed 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 sai che io quando provavo a farmi gli avatar sui sui giochi avevo sempre il problema che se volevo farmi i capelli lunghi dovevo scegliere per forza quelli biondi da donna e creavano un personaggio che sembrava una donna che palle e non poi la barba era ciao rodion v grazie del prime tu hai questo signore che sembra dai baffi una sorta di 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 tri che è bellissimo è l'orax oddio è vero è l'orax però c'ha il maioncino vai se tu se adesso non mi trovo un signore sulla cinquantina pelato con questo baffo biondo che va così mi offendo va bene pure così non mi aspettavo anche anche questa però dai va bene anche così certo non ci assomiglia molto il tuo avatar a te però capisco che certo il tuo avatar non è l'orax però ci sta che il tuo avatar voglia rappresentare un una un aspetto della tua personalità magari la buttiamo così? la buttiamo così vi ricordate quando su tiktok chiedevano tutti di fare i 360 dei capelli? ecco ciao magus pipupapus che schifo che schifo scusa non voglio prenderti in giro assolutamente perché ogni avatar è un avatar e che roblox è strano non è normale capisci? non è un qualsiasi gioco che io sto tipo che vado a rovinare cioè è strano capisci lava? è un po' strano è un po' è un po' strano peccato che non ho occasione di soggiarla la mia skin di colla testa di capibara infatti è un peccato allora se non hai le corna Irl offeso sono offeso 100-100 posso dire che non t'assomiglia però vabbè ci sta ci sta effettivamente questo fa molto fantasy do you like fantasy? viva i fantasies roblox e ho l'uniforme di jujutsu kaisen un anime che hype però per questa skin di jujutsu kaisen roblox ok questo questo non sei tu immagino ok anche qua vedi c'è questo problema di cioè sembra che gli abbiano preso quattro costole e gliele abbiano rimosse poi hanno sono passati a sto lato gli hanno rimosso altre quattro costole è una spia oddio è vero sembra un tipico personaggio di Kimpossible quello sei tu sì sono io non è questa persona i capelli sono biondi sono come i miei perché i miei in realtà sono biondi c'è questa lo faccio vedere sempre in live perché molti dicono ah beh ha i capelli pelli marroni no vedi pure i miei sono biondi cioè vedi che sono biondi quindi magari anche i suoi sono effettivamente biondi quindi questo è la legge che rappresentare se stessi sotto forma di avatar è la giusta oddio ha cambiato colore hai visto cosa succede se illumini i tuoi capelli Robox è un canni perché è geometrico ma perché è pattern iper realistici forse sì ma non è una spia non ha gli occhiali da sole da spia effettivamente ok next Pikmin 4 ciao Mr.Sambri grazie del del Prime bello questo sei tu su Pikmin Danilo vai vediamo Teirl non ci assomigli effettivamente ma non so se sia customizzabile Danilo è customizzabile vabbè dai va bene va bene comunque provate a immaginarvi ora la sua faccia però su questo personaggio quindi coi capelli rossi messi di lato così ma come è uguale ma dove lo vedi che è uguale ma non ci assomiglia manco per nulla si è custom ah ok però non ci assomiglia per nulla ovviamente ma non che sia una legge attenzione non deve essere una legge raga cioè ok tua skin di Minecraft Alessandro ok tipica felpa U di Minecraft Ed Lars non è Ed Lars god damn bro voglio stringerti la mano sei un fico della madonna ok questa è proprio la skin di questa persona cioè è proprio la tua skin cazzo è la tua skin bro keep doing your shit no perché la skin sembra quella di The Lars su Minecraft aspetta The Lars Minecraft my bro keep doing his shit ok no l'ho solo confusa in modo stupido non so perché l'ho confusa in questo modo però vabbè ma le basette nella skin di Dani ok e comunque dicevo bro keep doing your shit e si va andiamo avanti Tearless ok Pokémon Unite ok non riesco a zoomare bene su questo personaggio spero si veda bene perché è coperto dalla mia cam e adesso si vede la faccia perfetto ora si vede la faccia scopriamo la tua faccia Earl io allora bro io voglio sperare con tutto il cuore che questo sia un filtro è un filtro vero cioè tu non sei così veramente cioè non hai questa forma bislunga del volto è una foto modificata penso io spero di è una foto è un filtro ok 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 è un filtro è un filtro è un filtro cioè no ci sta volevo specificare cioè volevo come dire avere la conferma Splatoon 3 ok questo è il tuo personaggio su Splatoon 3 esiste Splatoon 3 esiste Splatoon 3 io ho anche partecipato a un torneo di Splatoon 3 me l'avevo dimenticato perfetto scusatemi sono pazzo i disegni non andavano bene però apprezzo lo sforzo ci assomiglia effettivamente sì forse non era molto in 4k però sì ci assomiglia Minecraft chill skin ok questo è il tipico personaggio da film tipo mamma di un film tipo Lessie o qualcosa di simile non ci ho azzeccato manco per il cazzo ok ci sta ci sta average woman skin su Minecraft perché da un lato hai tipo le ragazze che si fanno la loro skin tutta carina tutta particolare eccetera eccetera poi dall'altro hai magari ragazzi che invece si mettono skin di capibara o skin di generale della seconda guerra no evitiamo poi c'è la mia ragazza Alice che come skin di Minecraft ha un piccione per proprio per concludere tutte le ragazze che si fanno le skin super carine su Minecraft poi c'è la Alice che ha un piccione si possono vedere tipo mc skin search mc skin search ok ma forse c'è un ne ha due no oddio non mi ricordo il nickname su Minecraft della mia ragazza si chiama brodo tipo brodo underscore brodo con due o è grave no no ragazzi non diteglielo che non mi ricordo il suo nickname su Minecraft brodo è finita è niente è niente adesso vado nel server fammi sapere è una di quelle cose tipo non ti ricordi quando è nata non ti ricordi quando è il compleanno tipo l'anniversario non ti ricordi il nome su Minecraft oh no alla B maiuscola può essere no alla B minuscola non lo so però niente perfetto scopriremo dopo qual è il link di Alice su Minecraft perché adesso non me lo ricordo purtroppo va bene andiamo avanti io me lo ricordo e non te lo dirò dai c'è lo zero vaffanculo non c'era nemmeno lo zero che palle va bene andiamo avanti Roblox Roblox this is Roblox this is ma perché tutti i personaggi su su Roblox hanno hanno delle delle cose così creepy perché i bambini sono così attirati dall'horror vi siete mai fatti questa domanda perché ai bambini piace così tanto Five Nights at Freddy's Huggy Wuggy e Choo Choo Charles tutte le robe creepy di Roblox perché ai bambini piace questa cosa è una cosa che cioè vi piacerebbe sapere il motivo per cui i bambini sono ossessionati dagli horror no perfetto prossimo video l'hai detto tu io non ho detto nulla io non ho detto nulla io però non ho detto nulla io non ho detto io non ho detto che il prossimo video parlerà di Five Nights at Freddy's però l'avete detto voi io sono in silenzio e continuo la mia live ciao STB grazie del quinto mese ciao al Magus che ha regalato una sub brother perché ha regalato una sub grazie anche a Red Antot per il Prime e a Mr. Sambri per il Prime Pippo Papoos ciao belli benvenuti ok vediamo te Earl ok swagging the swagging ball cosa ho detto swagging the swagging ball eeeh Roblos perché ti voglio Roblos Arf 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 god damn con gli occhiali veloci bro the fastest boys in the universe let's fucking go però qua non ce l'hai Pit Viper aspetta 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 arrivo perché la vita va vissuta veloce non c'è tempo di andare lenti dobbiamo vivere veloci è sempre in linea con le le Roblos ok perché hai la pelle blu per quale cazzo di motivo hai la pelle blu scopriamolo scopriamolo subito se hai un pelle blu non hai razzista pelle blu non hai la pelle blu sono abbastanza certo che tu non abbia la pelle blu però hai una bellissima felpa di Roblox è falso bann è bannato per per come si chiama faking the skin ok vabbè anche una foto andava bene Smartix però grazie dell'impegno per il video di Team Fortress Lewis ok credo che Smartix non abbia capito molto bene che cosa doveva fare però credo abbia sbagliato sono abbastanza sicuro god damn è pieno di gadgets let's go quanti anni ha questa persona gadgets Satan's gadgets Roblox basta non posso comunicare solo a termini inglesi detti male mi hai inviato un mi come ho detto mi hai inviato ho detto mi hai inviato un mi e mi hai inviato un mi è un io ho dimenticato l'esistenza dei mi io sui mi non riuscivo mai a farmi non ci assomigliavo mai io sui mi ho sempre avuto problemi non ci assomigliavo manco per il cazzo Minecraft damn Robert Downey Jr Robert Downey Jr sempre rispettato mio attore preferito ero veramente Robert Downey Jr cazzo ma è lui io stavo bemando perché magari spuntava un ragazzo a caso è Tony god damn 10 su 10 Leonardo 10 su 10 bro era veramente Tony McQuack non so perché ho detto McQuack Tony Stark Starks perché il tuo personaggio è così basso su Pokemon Pokemon diamante lucente ho 14 anni ah qua avevi fatto 12 anni ci sta Pokemon diamante lucente perché sono nani i personaggi su Pokemon diamante lucente dopo Brad Pitt ecco Robert hai visto ok questa è una skin molto base l'ho vista un sacco di persone è tipo la skin per eccellenza beh dai le cuffie da gaming ci sono cuffie da gaming con microfono quindi in realtà va pure bene i tuoi fan ti chiamano sorry Roblox è un po' sobrio questo personaggio è un po' sobrio molto sobrio come personaggio di Roblox cioè la sobrietà espressa a personaggio di Roblox però tu sei una persona molto sobria il tuo personaggio di Roblox non è molto sobrio tipo ci sono due lupi dentro di me uno due va bene tra l'altro entrambi non hanno la faccia non so se avete notato questo dettaglio Jack Stauber Opal eh cosa hai scritto però è fatto bene io non so come funzioni fare i i gli avatar su Roblox non ne ho la più pallida idea purtroppo VR chat allora se tu non sei come Leo mi offendo è Leo è letteralmente Leo tu sei veramente Leo cazzo ti sei fatto identico bro cioè qua i capelli un po' più lunghi molto simile gli occhiali soprattutto forse la felpa no i colori dei capelli no la lunghezza dei capelli no c'è solo gli occhiali la faccio vabbè però eh eh aspettate chiedo ad Alice il nickname di Minecraft ok così risolveremo il mistero del nickname di Minecraft credo che Alice abbia sbagliato a scrivere ok mi ha scritto inizialmente brick ok mc skin search brodo zero ce l'ho fatta ops c'è il l'ho trovata è questa no Alice tu hai un fastidiosissimo pixel rosso qui che io non ho mai notato tu hai un dannato pixel rosso è il mio collare come il tuo collare che vuol dire il mio collare scusa non ho capito amore va bene il collare da piccione ah il chip eh non è il collare il chip eh specifichiamo questo l'abbiamo già visto per rimanere in tema avatar sobri di Roblox sobrio qua è molto sobrio kuromi waifu smettetela con questi termini giapponesi lo sapete che mi mettete a disagio ci sta in realtà potrebbe rispecchiarti non lo so se ti rappresenta come avatar continua così Roblox Mario Balotelli ho scelto l'unico calciatore dell'Inter che non dovevo scegliere probabilmente Zanardi Inzaghi come si chiama il capitano dell'Inter Inzaghi Zano Maradona no questi non sono calciatori Maradona si Barel Ah Zanetti era Zanetti Zanetti God damn bro ma tu non giochi nell'Inter o tu giochi nell'Inter tu giochi nell'Inter Cavalli Cavilli ma che cazzo le sai tu dell'Inter Palmucci tu non segui l'Inter credo sia la maglia degli Italia Poldo non mi chiamare Poldo smettila ok fa molto arpia con le corna pantaloncini shorts scopriamo chi c'è dietro questa skin 3 2 1 ah ah Federico ok ho totalmente misgenderato questo è come mi vedo rappresentabile tu ti vedi rappresentabile così cioè tu ti vedi rappresentato così come funziona vabbè dai chill foto in mountain bike con Maya One Piece tra l'altro io sono così ma non è vero smettila dice tu sei più come Kakà il calciatore del Milan ti piace non lo so se gioca nel Milan Kakà chi cazzo è Kakà aspetta Kakà ti mi hai detto che sembra un piccione ma non sembra un piccione non è vero che ho detto questo Kakà ma è giovanissimo Kakà va bene andiamo avanti oh hoodie a scacchi rossi e neri Tananai no Tananai sono io Tananai sono io Tananai sono io ma ah che fiera è questa a Torino Comics a me fa impazzire che io ho come maglietta una maglia dei Revenge che è una band è tipo black metal di quelle proprio pesantissime però hey sorridi Poldo facciamo una foto in realtà è la skin ah in realtà non è lei ma sono io la skin ah ok non l'ho capito siete tipo gli stessi ma dove ma dove solo perché ho i capelli lunghi che fastidio ok sono i capelli questi sono i capelli che continuano ah Yukin Yukin si ah si Yukin ti ho riconosciuto però vedi ah ah ha i capelli rossi sia Irl che su Minecraft god damn la rappresentazione cos'è Everskies Everskies what the actual fuck che gioco è huh 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 giochi come gli fps non conto il form è aperto però solo giochi in cui la vada è customizzabile anche se è fps che gioco è che gioco è non hai i capelli così lunghi tu però ti ho scoperto l'inghippo sta qui no comunque ci sta non conosco cos'è Everskies però sarà un gioco tipo alla Genshin uno stylist gioco di styling Battlefield dimmi che Battlebeat non è Battlefield questo non credo sia Battlefield sono abbastanza hai una katana bro quanti euro si peso a Romics quest'anno mio cugino no cioè non in in senso vero cioè nel senso figurato e di appartenenza sociale e papà aspettate un attimo dicevo e Skin Roblox katana ci sta secondo me lui ha una katana comprata a Romics devo smettere di pronunciare così le parole let's go Roblox ok skin Roblox skin Earl che skin bella bro c'è un non so che nella faccia del tuo personaggio di Roblox che mi ricorda te è molto simile sedia va bene dove l'avete vista sedia Roblox Roblox la foto sotto 13 anni god damn Lil Kaneki from psychology 2 madonna quante piccole Matteo va bene però non sei Lil Kaneki Earl oddio un po' sì c'è i campbellini Lil Kaneki ci sono Kaneki da Tokyo Go ok personaggio minecraft personaggio minecraft femmina madonna è un video è un tiktok perfetto ok anche qua skin minecraft molto chill avevo molta paura prima di iniziare la live che molti non avessero la skin minecraft invece molti ce l'hanno perché non è più il 2012 quando avevamo tutti i minecraft sp e ora qualcuno mi spieghi cosa Cristo il Dio è questa cosa facciamo così che vi devo dire potevi facilitarmi un po' il lavoro eh potevi facilitarmi un po' il lavoro mc skin search è chiaramente la foto del tipo è ovviamente la foto sua wait devo è tipo piccolissima come si testano le skin di minecraft come si testano le skin di minecraft mc skin vabbè niente dovevo testare la skin di minecraft però non è non è andato usa nuova skin ok potevi facilitarmi un po' il lavoro ok open vai è un rebus ah era questa la skin di minecraft cioè capisci potevi facilitarmi un po' come si gira potevi facilitarmi un po' il lavoro però va bene adesso ho capito che cos'è la tua skin tra l'altro ciao studi time twitch ambassador what the actual fuck ho detto una parolaccia quindi ho fatto male davanti a un twitch ambassador non lo so se ho fatto male a dire una parolaccia davanti a un twitch ambassador però wow era la prima volta che mi succede questa non so come reagire cosa devo fare è tipo un controllo della finanza devo stare tipo in silenzio ban ecco è andato è come quando mi è venuta la polizia in casa devi stare in silenzio non dire nulla anche se non c'entri nulla tu non parlare perché nel peggiore dei casi potrebbe potrebbero venirti a casa i diretti coinvolti quindi silenzio ban ban motivo parolacce reportato e niente è finita tra l'altro ciao molto piacere ciao anche a cool skeleton grazie del del decimo mese io ho saltato la faccia però di quel casino per la skin di minecraft che abbiamo fatto tutto questo casino e alla fine era my bro ci sta ok my singing monster ti piacciono i pink floyd che cosa c'entra cos'è my singing monster c'è il tuo mio fratello in cristo ma perché stai così incattivito ma stai proprio nella rage mode ma che ti è successo che t'hanno fatto però sta con la chitarra ok probabilmente stava suonando qualche pezzo tipo grind potentissimo ok no aspettate scusate devo fare la devo fare il remake devo fare il remake ok tipo una roba del genere sì stava suonando grind core era tipo mi sono fatto malissimo la chitarra al contrario ma è semplicemente specchiata la foto baboons è specchiata la foto baboons ok allora skin minecraft skin earl god damn non so io non riesco a capire bene cosa sia la tua skin minecraft ma sono abbastanza sicuro che tu non ci assomigli molto è complessa da capire la tua skin è veramente complessa e quindi la considero un work of art roblox la foto è una mia foto vecchia god damn ma vedi che sono sono uncanny perché hanno delle proporzioni strane capisci ok questa questa sei tu perché è la pelle gialla qui lo considerai abbastanza racist da parte tua e non lo farei in front of a twitch ambassadors devo smettere di parlare con questo inglese sbiascicatissimo vedi ma niente è inconcepibile questa cosa è inconcepibile questa cosa veramente inconcepibile chi è? si riesco la vita mi precede what? scusa ma perché hai il mio stesso nome? che cosa che cos'è questa cosa? spiegamela chi sei? di che cosa stai parlando? ma è la mia voce ma in che modo è possibile questa cosa? ma che cosa stai dicendo? questa è la mia voce ma non è possibile questa cosa allora di una frase che non c'entra nulla con quello che sto per dire ci fa proprio le patate al forno sono molto gustose sto sto impazzendo sto letteralmente impazzendo la pizza con le patatine è da bambini non è da bambini e se sei me questa cosa la dovresti sapere io non sono te tu sei me ma che cosa? allora eh io non non so come allora fate una domanda in chat così vi posso appurare che non è una voce registrata ok perché non cos'è questa per favore per favore che cosa sta succedendo veramente perché non prendere a sedia una bella pizza con le patatine tranquillo tranquillo qual è il tuo teletubbies preferito? è il teletubbies rosso tanto io sento del ritardo da quando questa persona inizia a rispondermi sei femmina sì sono una femmina dai questa cosa però non è non è non è corretta non è 10 pizza e la cipolla per sedia un po' troppe secondo me no 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 che fastidio mi dà troppo fastidio questa cosa puoi dirmi un sacco di cose in rumeno non ho mai sentito cosa è una mod bannate kakashi ha detto che il teletubbies rosso è proprio puoi dirmi qualcosa in rumeno puoi dirmi qualcosa in rumeno? ma è non solo rumeno vabbè dai cerchi qualche parola su google aspetta cerco su google il traduttore si cerca cerca tranquillo datemi un attimo pordo kakashi mutato ma non l'ho detto io l'ho detto l'ho detto allora devi dire che praticamente alo sunt eu un haiduc si te rog va bene grazie grazie è stato un piacere conoscerla spero di rincontrarci il prima possibile buona live signor poldolife arrivederci 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 oh mio dio non so questa cosa sia possibile credo sia un AI che clona la mia voce in tempo reale mi hanno solo detto entra su discord no non era sedia non era sedia mi hanno solo detto entra su discord infatti c'era tipo un delay di 5 secondi tra quando io iniziavo a parlare e questa persona iniziava a parlare quindi vuol dire che l'AI processava tipo il mio modello tipo che paura questa cosa adesso devo fare la pipì grazie ok signori eccomi dovevo fare la pipì e dovevo lavarmi le mani che sta facendo la serie a due gambe dai fate la sub godo godus godopoulos 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 va bene stavo dicendo scusatemi allora passiamo alla prossima skin la prossima skin la prossima skin cioè non dovevamo vedere la skin dovevamo vedere chi c'è dietro questa skin perché hai ah mi hai fatto arrabbiare hai rovinato tutto dark souls dark souls oppure volevate dire dark souls perché non carica perché non carica allora questo è il tuo personaggio su dark souls 3 trommaso questo sei tu cos'hai nell'orecchio bro bro ma ma hai qualcosa di infilato vaffanculo è un airpods è un auricolare al contrario dio santo mi sembrava una cannuccia che partiva da qua e finiva qua porca troia ho detto ma guarda ma c'è sembra letteralmente che gli è entrato ma chi è io sto lavorando io sto lavorando ma chi è va bene dicevo non è possibile che questa cosa va bene niente mi ha confuso mi ha confuso minecraft sembra un minuto di 12 anni ma ne ho 15 immagina che imbarazzo niente imbarazzo bro è un attimino sobria la tua skin di minecraft samuele ti voglio bene è molto sobria però la tua skin di minecraft secondo me sei romeno ah sushpula oh mario marco tulli vai ma aspetta mario 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 god damn bro lui è quello che volevo in questa io avevo bisogno di questo skin femmina ranocchia mario io avevo bisogno di skin femmina ranocchia mario a me a lui piace seguire è la prima skin cache se cerchi egirl minecraft skin è bellissima io voglio voglio più mario nel mondo con la skin egirl predefinita mario mio padre letteralmente ho detto mio padre mamma mia mamma mia mi devo scorreggere addosso aspetta cacca scureggia che divertente le scureggia oh ci sta ci sta molto sai che è molto simile forse il taglio degli occhi i capelli honestly questo accuratezza 9 su 10 eccomi sono mario grande magrid minecraft vai è un personaggio di street fighter questo beh non ci assomigli non ci assomigli per nulla bro no non è la tua skin secondo me dovresti cambiarla sono abbastanza sicuro che non ci assomigli per nulla rocket league ma in che modo capisci va bene allora se adesso nicolas non sei una macchina mi incazzo se adesso non sei una macchina mi arrabbia allora io mi sono rivisto io nello schermo non so perché questa cosa però si beh va bene bro non scaricherò rusty business sweet retouch v3 color type non lo scaricherò non lo scaricherò facciamo che non lo scarichi andiamo avanti minecraft sono povero in culo non ho altri giochi va bene tanto che è strana come skin molto animes molto animes god damn bro posa quell'ombrello posa quell'ombrello posa quell'ombrello ah qua però l'ombrello non ce l'hai minaccioso poldo 2.0 sto incazzando non mi paragonata alle persone senza motivo ok questo abbiamo già visto roblox prometto che sono piccola quanto piccola quanto piccola perché per me piccole sotto i 16 anni non tanto piccola piccola ah ok molto piccola quanti anni non lo so però piccoli bimbi piccoli minecraft god damn mi hai messo solo la voce wow shit dude onestamente drip 7 su 10 drip 7 su 10 non ti dico 8 perché non ci assumiamo che gioco è good pizza great pizza e lo stile lo stile grafico è bellissimo stile grafico è veramente figo tra l'altro ciao error grazie al ventesimo mese ciao ad emmanuel per i beat poldo mia sorella è incinta che bello bro diventerò padre bro sono aspetta sei un coglione ti stavo pure facendo i complimenti sei un grandissimo coglione ciao magrid grazie del prime caro un bacione puntesca motivo telegram per il gruppo telegram dei sub sai che ci sta trasmette le stesse chill vibes chill vibes le trasmette è molto simile effettivamente i capelli il campo di girasoli e questa non è un campo di girasoli è un campo di girasoli è un tutta questa ambientazione molto molto comfy apprezzato apprezzato che gioco è allora io voglio vedere cosa c'è scritto qua minecraft minecraft vai allora questo sei tu su minecraft molto sgargiante di colori questo sei tu ci sta perché nella vita bisogna riempirsi di colori e magari crescendo puoi valutare di fare tanti tatuaggi colorati non so cosa sto dicendo roblox che problema ha questo personaggio senza offesa è tipo un veloci raptor non lo so è strano è tipo ok forse sai che in faccia ci assomiglia abbastanza tu non hai gli occhiali però legit smettila smettila non mi fare fare ciao franco bollo grazie del prime bello grazie anche alla tarralina magica per il sesto mese e cosa cristo è sta cosa Andrew take it baldis basics ok roblox vediamo la tua faccia non ci assomigli per nulla cioè ti rendi conto non sono la stessa persona mi immaginavo ora immagina questa persona con questo fisico cioè tipo gigante con le braccine piccolissime è la testa pelata in quel modo i miei della switch bro se non hai il baffetto il mi offendo fai sì che tu abbia il baffetto hai esattamente il baffetto che volevo io cazzo sì sono contento è bellissimo bro ti rappresenta hai pure la maglia viola in questa foto ma sei proprio tu cioè tu vivi per rappresentare il tuo avatar rispetto 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 oh abbiamo un uomo misterioso un dark man allora ha molto l'impressione di immagine scaricata da internet simone visto che si chiama imagis 1 però voglio darti il beneficio del dubbio quindi andiamo avanti bisogna fare fuori simone e niente è un cheater minecraft indovina la mia età 24 anni 24 25 ho sbagliato mi sa 15 16 17 però ci sta è molto sobri anche questa come minecraft come minecraft skin roblox ho provato a fare la skin di luis serra scusami chi è luis serra 12 perché quello è minecraft mobile ah fuck io non so le differenze tra minecraft mobile e altro allora questo è luis serra questa non è luis serra chi è luis serra ah luis serra di ah è ok è quello di resident evil perfetto però ci assomiglia luis serra cioè noi tecnicamente dovremmo ignorare questa foto è prendere in riferimento solo questi due personaggi effettivamente così il gioco non è più divertente anche lei è uguale a luis serra va bene ragazzi voi è il capire le le similitudini tra le persone non andrete mai a braccetto fall guys damn bro hai una skin su fall guys damn bro quello non sei tu porca troia minecraft ok perché hai una benda nell'occhio mo magari ce l'avrei pure Irle ho fatto una figura di merda però sarà solo un ok sai che i capelli blu ti starebbero benissimo però non azzurri più blu non lo so guardandolo questa immagine mi ha ispirato forse c'è anche un po' un filtro azzurro ricky moretti oddio oddio no basta se no poi si offende che lo paragono capelli blu capelli non blu vabbè ci sta hai la maglietta di slugger let's fucking do it io ho mancato la descrizione da minecraft però sulla skin del personaggio è sully face e l'ho giocato ho fatto due partiti a sully face sully face sully face sully face devo smettere di pronunciare sully face ok è letteralmente il main protagonista di sully face perfetto tanto stava sul battle pass tecnicamente sally face non ricordo mai roblos roblos è letteralmente la skin base però con delle cose aggiunte vai 26 anni god damn bro ho unato questo form per quanto mi riguarda god damn nice sombrero voglio anche un sombrero voglio anche ha un tronco in testa e là c'è un sombrero e allora ok è tipo la coroncina fa molto capelli hippie molto fighi eh vedi minecraft minecraft ok ci sta ci sta rappresenta la tua la tua personalità molto hippies io non so nulla di cultura hippie ragazzi sto solo facendo contenuto purtroppo perché sono le 21 e 45 ok i personaggi di roblox mi confondono mi confondono mi confondono proprio sono strani ergonomici ergonomici strani proprio a livello proprio di forma tipo tu non hai questa forma così vabbè sono caricature che cosa ci puoi fare sono caricature però boh ma alla fine è il tipico avatar secondo me che ti avrei attribuito un giorno facciamo il gioco al contrario provo a capire di chi è l'avatar va bene è molto simpatico nicolo se volete dire perché ho schippato quello ero io prima che qualcuno mi ha riconosciuto creeper ho man 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 creeper ci sta creeper con la giacca elegante è sempre una skin che non non damn questa è veramente bella questa è veramente bella scopriamo chi è il chad che la usa il chad erbanano letteralmente il tonic name è erbanano quindi ci sta che tu abbia una skin di una banana sul minecraft game andrò molto veloce così faccio più persone possibili pokemon scarlatto scopriamo la tua la tua fascia non sono sono realmente io non sto facendo il simpatico non so come io sia finito nel canale di palmucci molto bello minecraft ok investigatore mafia perfetto non hai capito il gioco ti manca la comprensione dal decido oh jeez oh my god ho fatto la gringiata dicendo quello my god vero se vi ho cringiato mettete like ci sta apparecchio roblox roblos roblos cosa ho aperto counter blessing cos'è mi hai inviato una copertina dei bring me to horizon che cosa che cosa hai fatto bro spiegami cos'è successo cosa hai capito sono curioso di sapere che cosa hai capito del form oh pantaloni touch wear quindi tu sarai uno che ama il touch wear no però perché costa tanto immagino però ci sta ci sta ci sta chill chill funk maglia funk sono in vacanza perciò beccati sto gioco per te sconosciuto god damn è tipo un un gestionale però tu sei più alta del tuo personaggio su questo gioco mi sembra sì ad occhio e croce sì pocket love non lo conosco ok questo è lo stesso di prima skin di minecraft non vuole essere meno ma qualcosa o qualcuno di simile let's go ma è bellissima brother non avrei mai detto che questa skin è sua ti giuro non l'avrei mai e poi mai detto di solito chi è grande su minecraft ha la skin precisa identica del suo personaggio tipo di babbo natale smash ragazzi aspettate la dischiera smash in chat però my bro skin 9 su 10 veramente figa tu potrei darti anche un 10 su 10 però poi non vorrei troppo sbilanciarmi andiamo avanti allora io sono abbastanza sicuro non leggo il nome ma sono abbastanza sicuro di sapere che la persona che ha questa skin è pelata se la persona che ha questa skin è pelata mi donate 10 sub 3 2 1 è pelata per un per un terzo quasi è un pelato con i capelli smash smetti la sedia non bullizzare non bullizzare il magus tra l'altro io conosco questa persona quando ho visto questa skin senza leggere ah tra l'altro c'era pure scritto Giacomo Travini senza leggere questa persona ho detto se è Giacomo che l'ha mandato è impazzisco era veramente Giacomo però adesso è pelato Giacomo per questo ho detto per forza è il magus minecraft la posizione era la fashion week a scuola oh mio dio tinta unita ok questo sito potrebbe sembrare una foto troll non è una foto troll bro ci sta era molto figo se la tua skin di minecraft fosse stata un vero unicorno rosa e allora avrei detto ok questa persona vive per imitare il suo avatar ok è una sedia a due gambe ci ho messo un sacco per capire che cosa hai fatto bro è una sedia a due gambe damn bro però forse potrebbe essere appropriazione culturale ho questa grande impressione quindi evitiamo di toccare questo discorso stessa versione si no decisamente non ci assomiglia ok skin minecraft diavoletto da supreme purple effettivamente ma il computer è tenuto in piedi dai libri ah no è uno screen di birial sono sto partendo veramente mi fa male la testa south park phone destroyed vai ok damn non hai capelli rossi però non hai capelli rossi mi dispiace e perché hanno tutti il cappello da cowboy su south park ti ho creato in gacha non era il punto della situazione questa foto è disgustosa è orribile ho i capelli tipo gonfissimi sembra una femmina e comunque non avresti dovuto grazie allo stesso animal crossing ok io devo riniziare io e lì ci abbiamo smesso di giocare ad animal crossing dopo averlo pagato 60 euro entrambi dobbiamo riniziare a giocare ad animal crossing eh oddio oddio sai che ti rispecchia un botto so io ciao ti rispecchia un botto preciso ti avrei affibbiato lo stesso avatar in un quiz di avatars troppo simile al mio ehi skin minecraft skin earl i colori ci sono occhiali da sole damn bro figo 9 su 10 9 su 10 ragazzi ragazzi non scrivete smash non è una smasher pass live i love my money bro perché hai scritto i love my money nella tua maglietta i soldi sono sono il male della società devi comprendere la mia skin di minecraft vai no allora io la apro solo per vedere la tua foto se qua dentro c'è una foto di un generale strano mi arrabbio facciamo così è arrivato il simpaticone di turno mi chiamo liam non ho roblox non ho robux bro tu sei il più basato skin base hai 1 2 3 4 5 paia di occhiali da sole tra cui uno indossato con mossa mister beast onestamente una delle migliori skin che abbiamo visto oggi posa da jojo no è la posa mister beast non dovrebbe farmi ridere dovrei condannare i troll però quando succedono queste cose non posso che non ridere roblox anche qua una skin molto sobria di roblox ali r g b t r g b t sono stupido oh mio dio ah è troppo tardi devo staccare la live r g b e me le hai mandate entrambi hai dimenticato l'altra foto vabbè dai pazienza minecraft mi manderai una foto di walter white e invece no tu hai una maglia dei drain what the fuck tra l'altro una maglia che io non ho mai visto wow quando quando e dove l'hai presa sta maglia non l'ho veramente mai vista da nessuna parte me la sono persa forse dallo shop o altro io sono la r in r g b t figa no vi consiglio di ascoltare i drain che è una band spettacolare e hai come skin di minecraft walter white 11 su 10 veramente attitudine hardcore walter white come immagine profilo 9 su 10 perché poteva essere jesse jesse questo è leo questo è leo dai questo è leo questo è leo sta su evil grid ah allora non l'ho proprio visto bro sei identico bravo è leo letteralmente è leo da piccolo smash ragazzi basta basta non va bene scrivere smash su ogni foto che appare perde di valore capite ok ma perché c'è questa wave di utilizzare le skin di walter white e poi la persona è totalmente differente dovete smettere di fare appropriazione soli pelati con la barba possono utilizzare la 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 roblox bob che schifo scusa non volevo insultare il tuo avatar insulto roblox perdonami il tuo avatar non c'entra nulla bro ti voglio un mondo di un mondo di bene ti giuro ti appoggio e puoi continuare a usare questo personaggio hai la mia benedizione non cambiare mai questa skin continua smash smash assoluto qua sono d'accordo con voi il gioco di shrek va bene bro non hai capito hai sbagliato non hai capito c'è stata una guerra per quell'avatar porta rispetto no no infatti porto rispetto porto veramente rispetto skin molto sobria ci sta skin veramente molto sobria e però ho capito accurato comunque maglietta particolare capelli katana manga pantaloni questi qua particolari c'è pure sedia questi pantaloni quindi devo stare attento a quello che dico onestamente accurata l'avrei proprio affibbiata a te questa skin affibbiata 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 minecraft vai non hai capito gabriel hai sbagliato hai fatto male l'hai fatto male oh jesus hai fatto il cosplay del tuo personaggio no sono stupido credo che questo sia me madoka magica ho fatto la faccia di sherek quella del me è madoka magica non c'entra nulla non c'entra assolutamente nulla con me è kamaso di genshin impact ah ok 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 sono io ciao e quindi è quella di genshin impact perfetto avete rovinato tutto non dovevo saperlo adesso è sceso da 10 su 10 a 9 su 10 si è madoka magica era davvero madoka magica vaffanculo tutti quelli che facevano genshin impact avevo ragione ho sghamato l'unico anime per ragazzi che conoscevo madoka magica questo è per voi che siete degli haters avevo ragione era un personaggio di madoka magica solo perché di recente ne ho parlato con alice nemmeno troppo di recente mesi fa però ah bro edoardo come hai fatto edoardo come hai fatto ad achieve a conquistare così tanta potenza chat ridete ha 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 le sa ha ha bro ma perché che strano è bislungo è bislungo è bislungo bro non avete capito più si va avanti più è peggio comunque se si interessa in fronte di scontare nel giovanile è dalla sampdoria non metto la faccia perché c'è il for honor qua abbiamo un chad che gioca for honor average for honor for honor player e lì ha veramente 10 su 10 keep keep playing for honor keep playing for honor smash perfetto reality hack hack 77 versione beta cos'è reality hack perché hai un cannone in mano bro questo sei tu fa molto immagine presa da internet però ti darò il beneficio del dubbio raga scusate fate nove sub dai mancano nove sub e compro una pizza a sedia ok l'ho già vista da qualcun altro questa skin forse nel mio server sub skin molto molto yeah molto yeah minecraft bimbi belli bimbi che fanno i root l'ho sbagliato dove ho fatto l'unica cosa ma l'ho sbagliato damn bro però non sei uno yeti mi aspettavo veramente tipo la foto di uno yeti con la foto davanti allo specchio roblox non sono dark poldo ma me la segno questa cosa che cos'è ma che problema hai il collo e la faccia hanno dei gravi problemi di costruzione vedi che non ci assomigli per nulla perché allora hai fatto questa cosa perché hai fatto quest'avatar non c'entra nulla miraculus ah fuck le debuggies è vero animal crossing questo non è un personaggio di animal crossing questo è il tuo personaggio li hai invertiti hai sbagliato li hai mandato prima uno e poi l'altro sai che hai bentenne nella cover chiedo scusa non volevo offendere i tuoi gusti ho solamente visto del verde è una persona e ho visto bentenne non volevo non voglio scambiare i tuoi gusti per altro però bentenne purtroppo era mia infanzia quindi Greta perché questo perché hai fatto questa cosa non troveremo mai una 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 soluzione ragazzi vi rendete conto che il 99% delle persone a cui state scrivendo smash è minorenne capite questo è un personaggio di sky children of the light beh oddio non ti assomiglia non ti assomiglia minecraft voglio una persona identica non credo che tu sia questo forse hai fatto per prendere in giro un tuo amico proprio come piacciono a noi devi dire mauri allora potrei chiamare la polizia da un momento all'altro damn bro abbiamo la stessa magnetta capitalismo e hai un pesce in testa il tposing skin minecraft skin roblox non hai capito cosa dovevi fare brother l'hai mancato allora vediamo gli ultimi 5 e poi stacchiamo tacchino mi aspettavo vi giuro mi aspettavo di switchare qua e trovare una foto di un tacchino e dire no hai trollato invece c'è veramente una persona tu usi una foto di un tacchino come skin di roblox hai vinto non è un tacchino hai vinto hai capito come funziona roblox e lo hai vinto in ogni modo possibile complimenti ok meno 4 splatoon 3 ok se non hai quelle orecchie mi offendo non hai quelle orecchie però hai una maglietta molto figa hai una maglietta molto figa andiamo sul 3 damn bro damn bro wow cos'è questo cappello lo voglio cappello particolare no comunque ci sta che hai questa skin l'avrei data effettivamente a te preferisci che ti chiamano poldone nazionale o poldozzo di dio e io preferirei poldo meglio mosca di merda questo è il tuo personaggio su bloodborne è ispirato a un altro personaggio del gioco o non a me ah meno male che l'esplici madonna bro io però non riesco a percepirti cioè io non sei que ah ecco ti no non c'entri nulla te lo posso assicurare gli ultimi due animal crossing new horizon ok pronti 3 2 1 è il penultimo non ci assomigli molto però poi sto piangendo le lacrime chat non spammate smash smettetele e mi ha fatto piangere è identico quella cosa che mi fa morire il cane il gatto che tenta di scappare mi ha ucciso mi ha ucciso veramente bro grazie mi hai fatto ridere un botto ti ringrazio vediamo l'ultimo roblox oh perché lo carica così tanto non c'è bisogno di fare suspense no non me lo carica dobbiamo andare al prossimo ok mario kart tour siamo pronti 3 2 1 sono sio richard htt frafrog e tu wow però non ci assomigli molto non ci assomigli molto va bene signori direi che purtroppo dobbiamo finire qua ce n'è ancora troppi però si sono fatte le 10 e io purtroppo dopo una certa ora in live smatto divento pazzo e non riesco più a muovermi mi è piaciuta questa live avevo paura durasse poco però voglio fare i complimenti a tutte le persone coraggiose che si sono presentate stasera in live che hanno voluto partecipare non è una brutta idea questa di fare questi format in cui si partecipa in modo così diretto non lo so su cosa fare la prossima formsnet se avete consigli scrivetemeli su instagram che io li accetto sempre signori io vi ringrazio per essere stati live purtroppo mancano 9 sub e compro una pizza a sedia purtroppo non gliela posso comprare oggi perché a quanto pare dovrà morire di fame per colpa vostra vi lancio da da chi vi lancio vi lancio da gravier che sta in live salutatemi gravier io mi vado ad asciugare le lacrime per la penultima combo di foto che abbiamo visto e fatemi scrivetemi su instagram il vostro nome e cognome perché tutti quelli che hanno scritto smash verranno segnalati alla polizia ciao denom grazie al 34esimo madonna 34 mesi e se non ti fermavi andavi anche dopo secondo me grazie denom grazie di cuore e guys noi ci vediamo domani alle 20 e 30 qui su twitch buonanotte 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 oh e iniziate ad scappare perché la polizia arriverà in casa vostra fra qualche minuto secondo ore e giorni grazie a tutti